Musica Chiuso il sipario del Teatro Festival Italia 2011, ripartono le stagioni dei grandi e dei piccoli teatri. Ed è soprattutto di questi che vorremmo raccontare, degli spazi cittadini meno visibili e più intimi, spesso artefici di operazioni culturali eccellenti e quasi sempre indipendenti perché improntati ad una gestione autosostenibile. Da questa sera fino a domenica si terrà all'Anificio 25 il Festival Movimentale, rassegna di forme sperimentali di danza e teatro diretta da Antonello Tudisco, quest'anno dedicata al tema dell'identità di genere. L'iniziativa comprenderà momenti di riflessione sulla scena contemporanea ed un laboratorio di tecnologia filosofica. Tra i protagonisti della scena è la Fatumi ed Eric Lamoureux, la Tanzcompagnia Gysen e la compagnia Macelleria Ettore. Il programma e le informazioni su www.movimentale.it. In una traversa del Corso San Giovanni a Teduccio, svolge il suo prezioso lavoro di semina la Sala Icos, in un'area della città che non offre molte occasioni culturali. Da venerdì a domenica sarà in scena Il Salto, di Fabio Rocco Oliva, con Fabio Rossi, Andrea De Goizueta, Elena Cepollaro e Antonio Tufano. Un lavoro torbido e poetico sulla condizione simbolica del prigioniero in una società che, per dirla con Foucault, sorveglia e punisce. E sempre da venerdì a domenica la Galleria Toledo ospiterà la compagnia Monstera, per il lavoro Physique du Role, di Nicola Russo, che esplora il conflitto, talora insostenibile, fra la corporeità e l'essenza, tra una fisicità subita e un'identità irrealizzabile.